musica 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 la barca di oggi è abbastanza complicata richiede cacao richiede marmellate di lamponi richiede torta di zucca insomma delle produzioni abbastanza importanti ma cercheremo di andarle a fare il più possibile quindi vi aspetto mi raccomando se volete vedere finire la barca oggi pomeriggio in live l'evento di oggi è il più culturale quindi niente in realtà di così di così particolare questo metodo per farmare è devastante ho scoperto che possiamo andare durante la giornata dell'evento della bonus barca da fiume possiamo andare ad aiutare i nostri amici andando nella sezione col punto esclamativo troviamo tutti gli amici che hanno bisogno di aiuto ad esempio la fattoria di tommy ha bisogno di aiuto per la barca regà noi possiamo andare ad aiutarli e ottenere nonostante appunto l'aiuto anche il bonus quindi guardate qua ci viene dato 400 di esperienza ce ne viene data altrettanta e ce ne viene data altrettanta ancora questa cosa è una cosa assurda quindi se torniamo alla lobby noi troviamo 37.600 di esperienza questo metodo è clamoroso ve lo consiglio assolutamente fatemi sapere se lo sapevate già perché è veramente tanta tanta roba continuiamo perché come vedete stiamo continuando a prendere robe torte con la panna vedete che qua ci continua ad arrivare il bonus che è una cosa clamorosa e ho scoperto anche che una volta che noi andiamo a compilare e andiamo a consegnare la consegna appunto della barca ci vengono dati dei punti che vengono sommati a quelli che già abbiamo e vengono aggiunti a questi qua sotto quindi tanta tanta roba mi raccomando fate questo metodo qua perché vi svolta tutto la crescita tutto vi svolta tattica molto particolare ma funzionale come vedete nella giornata di ieri quella parte che avete visto è stata registrata un po' di tempo fa ho raggiunto addirittura 15.000 di esperienza guadagnati semplicemente andando a completare gli ordini fatti e richiesti dagli altri quando quindi c'è questo evento che è fondamentale vi farò comunque un video su come sapere gli eventi che dobbiamo andare a vedere che ci saranno in settimana perché c'è una sorta di programma una schedule degli eventi che arriveranno vi consiglio assolutamente di utilizzare questi eventi soprattutto andateli a sfruttare quelli degli ordini della barca e quelli soprattutto delle consegne queste qua col furgoncino perché come vi ho fatto vedere risultano essere molto molto fruttifere all'interno del nostro profilo e vi permettono di scalare magari quell'esperienza in più che solitamente non andate a fare quindi piccolo piccolo reminder fatelo assolutamente perché secondo me ne vale veramente tanta la pena andiamo a dare un attimo da mangiare ai nostri cagnolini che li vedo abbastanza li vedo abbastanza tristi quindi subito dentro con un po' di latte un po' di cagnuzza e via così andiamo ad andare a vedere un attimo nel derby perché il derby come vi ho fatto vedere dura veramente poco dura in realtà 6 giorni quindi avremo ancora 20 ore per finire questo derby qua io ho fatto 0 incarichi è un derby tranquillo tra virgolette quindi non dovrebbe creare nessun tipo di problema all'interno della nostra classifica sicuramente come vi ho detto arriveranno un sacco di di video e un sacco di contenuti riguardo ai derby una volta che arriveremo in lega campioni vorrei portarvi una sorta di serie dei derby se volete partecipare a questa serie mi raccomando entrate nei maiali del VAP vi ricordo che uscirà poi in settimana anche il video quello degli abbonamenti quello dove vado a valutare le fattorie degli abbonati se non siete ancora abbonati avete ancora la possibilità di farlo vi lascio qua sotto il link per collegare Twitch ad Amazon e avere l'opportunità di fare l'abbonamento gratuito che vi permette di avere la mia amicizia su tutti i contenuti e giochi Supercell finiamo il video andando a fare un attimo una sessione di pesca perché in realtà ci manca qualcosina abbiamo messo comunque a costruire le nostre esche che andremo a rimettere assolutamente anche le reti vi faccio vedere la mia tecnica di pesca che forse è quella che conviene di più andare ad utilizzare è una tecnica abbastanza facile infatti io vado a dividere dato che ho in realtà l'area di pesca divisa in quattro zone vado a dividerle due zone che vado ad adibire alla pesca con l'esca quindi quella con la costruzione l'esca tranquilla se volete un video sulle esche particolari fatemelo sapere perché uscirà un video sulle esche detto questo comunque le reti poi le vado a mettere nelle altre due posizioni quindi due posizioni con l'esca e due posizioni con il retificio quindi in modo tale da creare una sorta di farm di pesci che risulta essere abbastanza semplice da avere come avete visto qua una volta che noi andiamo subito a togliere gli attrezzi che ci danno queste due macchine il banco lavoro per esche e il retificio li vado subito a riposizionare in modo tale che ci possa essere un farm continuo il prossimo oggetto che andrò a sbloccare è la pesca di aragoste che ci vuole ancora un po' per sbloccarla e poi ci sarà anche la trappola per anatre che proprio risulta essere molto 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 lontana vado a sbloccare però con voi dato che voglio fare questa piccola cosetta un'altra zona di pesca anzi no volevo andare a sbloccare prima questo caspita di robetto qua in mezzo che dà abbastanza fastidio in modo tale che vada a finire finalmente questa zona qua della fattoria che è da finire e la posso andare a sbloccare tutta quindi farò un video riguardo le espansioni un update su come sto organizzando le espansioni nella mia fattoria e nella mia zona di pesca il video termina qua tecnica veramente assurda non so se la conoscevate non so se sapevate che si potevate andare ad aiutare le persone che avete nella lista amici e ottenere comunque il bonus ottenere comunque i punti bar che insomma un sacco di novità in questo video di oggi spero che vi siate divertiti spero soprattutto che vi sia piaciuto la regola numero uno è condividere il video con i vostri amici perché il passaparola è la metodologia migliore per andare a sponsorizzare il mio canale gratuitamente iscrivetevi se non l'avete ancora fatto lasciate like se non l'avete ancora fatto attivate la campanella tutte le notifiche così non vi perdete le live che faccio vi ricordo il pomeriggio dalle 17 in poi più o meno all'incirca ciao belli ci vediamo domani alle 14 e oggi pomeriggio in live ciao belli ciao